Ecco siamo qui in Val de Molina Garda dove poco tempo fa è venuta giù una frana praticamente più a monte e qua sotto dove sta passando la strada, dove passa la strada, vicino vedete qua c'è tutto il retto di quello che dovrebbe essere il torrente tutto occupato da una foresta di di alberi praticamente una foresta di alberi di piante che hanno occupato tutta l'alveo quindi in caso di forte di forti precipitazioni c'è il rischio che tutto questo materiale venga sradicato e l'acqua fuoriesca attrasi dal greto del torrente e vada a finire giù a valle verso il paese dove per di più anche qua vediamo questa enorme costruzione palazzina edificata a vista largo sta deturpando il paesaggio ed è costruito in una zona anche alquanto instabile quindi questi danni proseguono al territorio e come vedete qua c'è questa vallata completamente occultata e si confida che venga messa a mano che qua la mano d'opera perché di settimazione anche perché quelle dighe che vedete lì che hanno costruito anni fa si rivelerebbero diciamo inconsistenti qua ha speso centinaia di migliaia di euro e alla fine tutto questo non servirebbe a niente visto che il torrente è tutto occupato da questa piantagione quindi segnaliamo anche questo fatto grave di dimenticanza di abbandono del territorio e si confida che sia i cittadini di garda che l'amministrazione comunale si rendano conto dei pericoli e dei disastri e dei gravissimi disagi che cui si può incorrere grazie a questa situazione di abbandono